Allora, per un operatore storico come SNAI, come cambia il modo di giocare e dove sta andando il gioco? Allora, intanto per un operatore storico come SNAI la sfida più importante è quella di superarsi sempre rispetto alla notorietà che la marca ha nei giocatori. Quindi la sfida più importante per noi è stata quella di far diventare digitale un'azienda che aveva una fortissima connotazione, una fortissima trazione retail, senza però snaturare questa caratteristica retail che è il driver principale del nostro business. Quindi noi stiamo andando in una direzione del cross-sell, cioè dell'omnicanalità, stiamo lavorando a soluzioni digitali che possano migliorare l'esperienza di gioco anche nel punto vendita e stiamo cercando di costruire sempre più un ponte bidirezionale tra il punto vendita e il gioco online. Crediamo che queste siano le sfide dei prossimi due anni. In questo mettiamo anche i nuovi prodotti dove, come detto oggi qui alla Social Media Week, siamo pionieri in talunni casi con gli sports che abbiamo lanciato per primi in Italia e con i fantasy game dove non siamo stati primi ma abbiamo sicuramente un ruolo primario perché offriamo un prodotto estremamente semplice e competitivo in termini di performance. Quando si parla di nuovi prodotti come i daily fantasy sport si parla anche diciamo dei comunità, di community, di network. Ecco, il tema della liquidità internazionale in questo senso rappresenta ancora una barriera. Come va superata? Che cosa dovrebbe accadere? Innanzitutto molto pragmaticamente ci preoccupiamo della liquidità italiana quindi di costruire un network di giocatori sempre più grande e lo facciamo anche aprendo a partnership con altri operatori come del resto succede già sul poker e per quanto ci riguarda anche sui giochi della tradizione italiana quindi skill games. Sicuramente per quanto riguarda il poker, i fantasy sport e l'exchange per quanto non sia un mercato di nostro interesse è inevitabile parlare di liquidità internazionale sappiamo che esiste un tavolo normativo su questo tema a livello comunitario e riteniamo che sia arrivato il momento di parlarne serenamente tra paesi che condividono le stesse logiche per esempio di compliance, di antiriciclaggio e provare ad immaginare uno scenario nuovo magari a 3, 4, 5 paesi perché questo a mio avviso è l'unico modo per tenere in vita o comunque tenere a livelli di sostenibilità economica prodotti come il poker che oggi soffrono un po' l'età e anche il passaggio di una moda Ecco, il settore delle scommesse sportive si appressa ad una rivoluzione c'è un nuovo bando di gara in corso eccetera sarà ancora un settore trainante a suo avviso? Ha bisogno di essere rilanciato, riformato in qualche modo? Diciamo che le scommesse sportive in Italia sono a maturità completa io credo che saranno ancora l'attrazione del mercato non in termini di valori assoluti perché sappiamo che parecchi da intrattenimento in Italia dominano il mercato ma quantomeno in termini di attrattiva, di contenuti e anche di comunicazione perché le scommesse sportive creano contenuto in maniera spontanea io credo che il nuovo bando potrà, se gestito in una maniera diciamo corretta e intelligente potrà rivitalizzare ulteriormente il mercato aprire a nuovi operatori, permettere agli operatori già presenti sul mercato di rinforzarsi e di colmare alcuni gap nei confronti della concorrenza in talunni casi ancora sleale che il mercato illegale esercita e quindi siamo assolutamente fiduciosi il gruppo SNAI affronta questa stagione di cambiamenti sicuramente in prima linea Grazie